Si torna a parlare delle naiedi, voi lo avete fatto attraverso un comunicato in cui avete detto chiaramente che tra un anno le piscine e le naiedi verranno gestite dal comune di Pescara, di recente però c'è stata l'assegnazione tramite bando alla pretusiana di Teramo. Sì, intanto aspettiamo con ansia che sia giudicato l'avviso pubblico, riapra in tempi rapidi per fornire questo servizio che la città necessita, che tutto il comprensorio vuole da troppo tempo e quindi di questo siamo felici. E poi contestalmente in quella che è la delibera che è stata approvata in giunta regionale c'è questo impegno in questo anno, quindi da qui alla fine di questo anno di gestione della pretusiana si facciano tutte le attività amministrative necessarie affinché si produca una legge, una legge regionale che possa passare la gestione della struttura e anche della proprietà al comune di Pescara, che è un po' quello che il consiglio comunale ha detto in più di un'occasione con degli ordini dei giorni votati a maggioranza, anzi all'unanimità, quindi il percorso è questo, si farà questo anno con questa gestione e poi durante questo anno si lavorerà affinché il comune di Pescara sia nelle condizioni migliori per poter ricevere la struttura e finalmente, io dico, probabilmente anche per un periodo lungo, finalmente riusciremo a dare una gestione duratura e anche valida a questa struttura. che necessita di tempi certi e anche di serenità. Resta però questa diversità di vedute tra la Lega e Fratelli d'Italia, per esempio? La politica è fatta di confronto, è fatta anche di diverse vedute tra chi gestisce la cosa pubblica, noi abbiamo visto per troppi anni una gestione privata dalla struttura che non ha portato a frutti concreti e se ci troviamo in queste condizioni perché le troppe gestioni che si sono avvicendate non hanno portato a grandi benefici, riteniamo che questo sia il momento migliore perché il comune di Pescara metta insieme con quelle che sono le sue partecipate le professionalità giuste per gestire la struttura. Peraltro siamo in un periodo in cui attraverso il PNRR e il recovery arriveranno diversi fondi a tutte le regioni italiane, quindi anche all'Abruzzo e quindi riteniamo che l'Abruzzo debba spendere alcuni di questi soldi per sistemare al meglio una proprietà della regione. Quindi quale occasione migliore in questo periodo storico per poter investire su un impianto di pregio come quello delle Naidi? Io credo che non ci sia e quindi siamo convinti della bontà delle nostre idee.